bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le ultime news delle ultime 24 ore le trovate racchiuse in questi pochi minuti nel video di oggi parleremo di alcuni argomenti davvero super importanti il primo dedicato alla season 5 ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la build 15.00 quindi proprio la pace che ci porterà all'update dovrebbe arrivare anche oggi alle ore 10 questo video registrato prima delle due del mattino di oggi dove appunto dovrebbe arrivare la nuova pace la 14.60 e ovviamente poi parleremo di tanto tanto altro di cui anche la supercoppa da un milione di dollari prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e se la trovo e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta proprio della coppa venom quella che ci sarà oggi we are venom posto direttamente dalla pagina twitter di fortnite venom cup fit marvel knockout ltm ultima coppa marvel quella di oggi in duo si gioca il 18 novembre si potrà vincere tutto l'outfit di venom e il suo piccone mark your calendar ci dicono perché il 21 novembre ci sarà la coppa da un milione di dollari questa intanto è l'immagine ufficiale per quanto riguarda la quarta ed ultima venom cup vi ricordo alle ore 17 in europa ma potete anche giocarla se non ci siete di pomeriggio in altri server ovviamente il ping non sarà lo stesso io personalmente gioco quella in asia alle 10 del mattino sul mio canale twitch la super competizione marvel di fortnite si chiude con la coppa venom e la supercoppa da un milione di dollari la super competizione marvel è giunta alle battute finali scopri come sbloccare venom in anteprima e preparati a combattere nell'evento finale la supercoppa da un milione di dollari tieni di forte per aggiudicarti la vittoria dell'ultima tappa della super competizione knockout marvel dovrai entrare in simbiosi con uno dei tuoi amici a partire dal 18 novembre i giocatori idonei a partecipare alla coppa venom avranno l'occasione di ospitare di sbloccare il costume di venom in anteprima in più potranno mettere le mani sulle moto integrata noi siamo venom sul dorso decorativo valigetta di vittici vittici e sul piccone squarciatrice simbiotica prima del lancio del negozio oggetti in questa ultima fase della super competizione marvel i giocatori idonei si sfideranno in due sessioni di gioco separate se non riesci a dare il massimo nella prima sessione o se non riesci a partecipare a distanza di qualche ora tu è il tuo partner avrete l'occasione di riscattarvi nella seconda sessione la coppa venom fa parte della knockout marvel a coppie ricordati se hai già partecipato alla coppa ghost rider e alla coppa black widow giocando la coppa venom riceverà il deltaplano guerra per il nexus tienilo stretto e occhio al cervello e poi ragazzi arriva un'altra immagine incredibile un meraviglioso iron man con uno sfondo dorato fortnite supercoppa da un milione di dollari a coppie il 21 novembre il 21 novembre il mitico viaggio della super competizione marvel colminerà in un duello definitivo la supercoppa da un milione di dollari i giocatori idonei e pronti alla sfida dovranno ricorrere a tutte le abilità apprese gareggiando nella coppa delle coppe della knockout marvel e nella più tradizionale battaglia reale solo così riusciranno ad avere la meglio sulle altre coppie di eroi e a giudicarsi una fetta del monte primi da un milione di dollari i giocatori potranno contare su nuovi poteri ma riceveranno solo 20 materiali per ogni eliminazione inoltre i materiali da costruzione saranno limitati ad un massimo di 200 unità per materiale perciò usali sapientemente nelle regioni europa e nord america est la supercoppa da un milione sarà trasmessa sui canali youtube e twitch ufficiali di fortnite durante il secondo round chi non dovesse qualificarsi per questa seconda fase potrà comunque seguire da casa l'evolversi della gara e scoprire chi si aggiudicherà una parte del monte premi inizio della trasmissione della copertura ue alle ore 19 mentre in america alle ore 23 in italia fine della trasmissione alle due e mezza del mattino apri la scheda competi nella lobby di gioco seleziona la coppa venom e o la supercoppa da un milione e trova l'orario di inizio per la tua regione dopo che il rispettivo evento sarà iniziato la sua playlist sarà accessibile nel menu playlist quindi ragazzi incredibile anche come è suddivisa su due grandi tornei separati la supercoppa da un milione sempre a coppie e per questo trovate il vostro compagno di squadra ideale e in bocca al lupo a tutti per poter cercare di portarvi a casa almeno una parte del monte premi di questo milione di dollari in paglio che chiude alla grande la season 4 di fortnite e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché volevo dirvi che ufficialmente ma già lo sapete è uscito il bando last love quindi la risata finale ultimo bando che chiude tutto il set di batman come sapete c'è joker poison ivy una variante di mida due no tutte le skin hanno delle varianti hanno tre picconi tre backpack e anche la scia wild card se non ricordo male al prezzo di 24 90 qualcosa del genere devo vedere un po anch'io dove trovarlo per prenderlo perché è davvero fatto veramente veramente bene e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono delle news per quanto riguarda il grande processo di fortnite versus apple da ieri è stata presentata una nuova ingiunzione un nuovo processo è stato completamente aperto da fortnite in australia per continuare nella loro lotta appunto nel liberare lo store di apple dagli eccessivi pagamenti che apple stessa chiede per appunto mantenere sull'app store le proprie app anche qua staremo a vedere se ci saranno delle novità per quanto riguarda come sappiamo ios dovremo aspettare almeno marzo del 2021 dove ci sarà l'ultima udienza del processo e vedremo se fortnite avrà la meglio e prima di salutarvi molto rapidamente ragazzi ultimo messaggio direttamente da fortnite fortnite item shop redesign is live hanno come sapete modificato per alcuni giocatori il layout del negozio che io purtroppo non ho ancora visto personalmente l'ho visto in qualche video ma non l'ho provato e dicono che entro pochi giorni per tutti i giocatori che ancora non hanno avuto lo shop cambiato verrà ovviamente modificato e potranno utilizzare il nuovo layout con tutte le sezioni separate e un sacco di novità per quanto riguarda appunto l'overlay insomma ragazzi io anche per oggi tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like dai raga aiutatemi a far salire il video nei consigliati e noi ci vediamo alle 8 in live su twitch con la pace che arriva alle 10 ciao ciao Grazie a tutti.